Buongiorno, ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV. Come ogni mattina procediamo con la lettura delle notizie del giorno, lunedì 15 dicembre. Sulla stampa locale troviamo la cronaca, il quotidiano del Molise, incidente in autostrada, muore il sindaco Bottaro, il primo cittadino di Poggio Sannita, rientrava da un weekend a Roma. E ieri i funerali a Campomarino a Dio Gigio, sarei sempre con noi la città saluta Gianluigi Norante, vittima, come sappiamo, di un altro incidente stradale. Lavoro Petraroia porta a Roma le vertenze del Molise. Attualità, maratona, teleton, molisani generosi. Vediamo lo sport, Lupi ci pensa a Miani, il bomber torna al gol e piega l'ultima della classe Celano a 5 minuti dalla fine. Serie D, Granata K.O. Amatelica, l'Agnone viene beffata al secondo minuto dal termine, Termoli sotterrato dal San Nicolò. Eccellenza, gioventù calciodauna di misura, Lisernia batte l'Olimpia Riccia, Vasto Girardi ok. Promozione, la squadra di Maiellaro sola in testa, Montenero a meno 3 dalla Vetta. Vediamo adesso le notizie riportate sul quotidiano online, informa Molise. Ecco, questa è la pagina dell'attualità, Bregantini, Cardinale, il Vescovo, notizia falsa, c'è qualcuno che mi vuole cacciare? Serie D, risultati e classifica. Eccellenza, risultati e classifica. Promozione, risultati e classifica. Alla Fondazione Giovanni Paolo II, teatro in Corsia. Prevenzione, nuove possibilità di cura per le malattie vascolari, successo per il convegno a Boiano. Sul diritto del lavoro si fonda una società libera e democratica. Concluso con successo il corso di tombolo organizzato dal CTA di Isernia. Emessa immediata cessazione di attività per un circolo privato a Toro. Bene, vediamo adesso i titoli di primo piano Molise. Schianto sulla 1 muore il sindaco di Poggio Sannita. Maria Antonietta Bottaro rientrava in Molise l'incidente tra Ceprano e Ponte Corvo. L'auto su cui viaggiava è uscita fuoristrada la 63enne e lascia il marito e una figlia. Il riordino sanità via libera della consulta al commissario e Tamburro diventa project manager dei piani operativi. A Campobasso odori nauseabondi dai reflui del depuratore monta la protesta con le calcare. A Boiano Fiat 1 piomba sul gregge che attraversa la strada strage di pecore in località Veticara. Campomarino folla commossa per l'ultimo saluto a Norante. Lo sport Miani issa il lupo al quarto posto. Il Campobasso batte il Celano senza brillare. Il bomber entra e decide il match nel finale. L'Olimpia agnonese sconfitta in casa del Matelica. Termoli sempre più a fondo. Giallorossi umiliati dal San Nicolò. Eccellenza. Isernia dà una continua la lotta per il primato. Poker vasto Girardi. Promozione. Pietra Monte Corvino da solo in vetta. Macchie spinete si annullano. Una notizia invece che riguarda il podismo. Giovanni Grano firma la sesta edizione della Cost to Cost. Abruzzo va stese San Salvo delusioni in esterna. Leggiamo nel dettaglio le pagine interne di primo piano Molise. Si parla di area di crisi e non solo regioni a confronto col ministro Poletti. Nel summit del 17 dicembre anche la questione degli esuberi delle province. Legalità. Bollino blu per le imprese virtuose. Scarabeo. Possibilità da cogliere al volo. Da uno studio sulle zone interne. Stimoli e spunti per le classi dirigenti. Il professor Berardo al convegno di Trivento. A pagina 3 c'è la sanità. Il tavolo massicci in riunione giovedì. Fa discutere il via libera della consulta. Discoverda gli atti del commissario sul Santissimo Rosario. Ma solo il consiglio può legiferare. Le tappe del riordino. Riccardo Tamburro, project manager, per dare impulso all'attuazione dei programmi operativi 2013-2015. Palazzo Spada dà ragione all'ASRE. Ma niente rimborsi alla Pavone Neuromed. Il Kodakons incalza nel piano di frattura 60 posti letto senza indicare l'accreditamento. Il bel paese. Treno fermo per sciopero. Odissea tragicomica. Su Facebook il racconto di Tiberio. Passiamo adesso alla stampa nazionale. Leggiamo insieme i titoli della Repubblica. PD. La sfida di Renzi. Non accetto il diktat con l'ulivo. Persi. 20 anni. Tregua tra premier e minoranza. Fassina lo attacca. Vuoi le elezioni. Berlusconi. Io decisivo per il Quirinale. Ma il segretario lo gela. Il reportage sul confine della Polonia con la paura dell'orso. russo. Erdogan arresta i giornalisti. L'ultima sfida del sultano in Turchia. Decine in carcere. Manovra fondi a pioggia. Esce il belice. Ma c'è Catania. L'analisi. L'Europa ha una banca. La usi per la crescita. Passiamo adesso alla stampa. La sfida di Renzi. Basta diktat. Alla minoranza democratica. Siate leali. Fassina, se vuoi andare al voto, dillo. Il premier all'assemblea del partito, l'Ulivo. Noi realizziamo quelle idee, ma il paese intanto ha perso 20 anni. Il Nazareno nel patto ha anche il presidente Berlusconi in rilancia, ma il PD nega nessun accordo sul Quirinale. Aziende e burocrazia per ogni norma che semplifica. Quattro complicano il lavoro. Torino, la carica dei 15.000 babbi natale. La corsa per i bambini dell'ospedale Regina Margherita. Il più grande raduno d'Italia. Dibattito, fine vita, quello che insegna Parigi. Il caso, silenzio e pietà per il piccolo Loris. In TV, maratona del dolore, senza pudore né limiti. Vediamo adesso i titoli del tempo. Ma sì, rifacciamoci del male. Assemblea nazionale ancora una volta alla sinistra litiga e si spacca su tutto. La minoranza PD si ribella. Fassina sbotta e all'interno cresce la voglia di scissione. Mafia Capitale voleva i soldi del terremoto. Le intercettazioni rivelano l'identikit del pusher di Roma Nord e le paure di Carminati. Serracchiani, non è vero. Berlusconi sul Quirinale, il nome è nell'accordo. L'Italia dà fondi ai terroristi, la nuova guerra è sul web e l'Isis recluta hacker. Crisi e sicurezza, i volontari inesperti non fanno bene ai musei. La fotonotizia riguarda invece lo sport. Stecca la Juve, Roma a meno uno. Bianconeri fermati dalla Samp, uno a uno. I giallorossi espugnano Genova. Passiamo adesso all'informazione sportiva. Leggiamo insieme i titoli della Gazzetta. Nuovo Milan Paradiso, questo il titolo scelto per questa mattina. La svolta rossonera. Menez e Jack Bonaventura stendono il Napoli. Adesso Inzaghi rivede il terzo posto. Sprint al veleno. La Roma passa a Genova e a meno uno dalla Juve. Fermata dalla Samp, il Genoa furioso. Preziosi durissimo, esagera. Mafia Capitale. Si riaccende il duello a quattro giornate dalla fine dell'andata. Grinta Mancini, la mia Inter in Champions, io ci credo. Quaterna Viola, Fiorentina D'Aurlo affonda il Cesena e ora punta alto. Premier Liverpool travolto. Lo United centra la sesta vittoria di fila. Storie da non perdere. Renzi e Malagogi lanciano la sfida di Roma 24 Olimpica. Reggio Emilia, ferma Venezia, capolista anche Milano in vetta. Bene, con questo è tutto. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Vi lascio ora alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Arrivederci. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per lunedì 15 dicembre. Un graduale cedimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di correnti più umide in quota ed una maggiore nuvolosità prevalente carattere stratiforme. Ventilazione moderata meridionale con mari mossi a largo. Temperature senza particolari variazioni o in leggero calo nei massimi a causa della maggior copertura nuvolosa. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 7, massima 11 gradi. Isernia minima 6, massima 14 gradi. Termoli minima 10, massima 15 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Allora a tutti i ragazzi lo scopercono. Avvicinoones